Hanno consigliato le dimissioni da componenti della seconda commissione consigliare urbanistica nelle mani del presidente Antonio Favata. Sono consiglieri Angelo Scalia, Calogiorno Dornetto, Felice Dierna, Michelangelo Lovetere, Sergio Iacone e Rino Bellavie, che come si legge nel verbale redatto in sede di commissione, l'unico mezzo indicato sarebbe quello di celebrare un consiglio comunale per disquisire sull'argomento che riguarda la perimetrazione del centro storico. Ma è giusto per dovere di cronaca che si proceda per ordine. Dal ritiro della delibera da trattare in commissione, ritiro da parte dell'assessore Milazzo, nulla è stato come prima. In realtà l'atto è stato considerato uno scorno alla commissione che aveva lavorato per 47 sedute, tra l'altro incriminate perché considerate troppe. Una corrispondenza epistolare tra commissione e segretario generale che ha definitivamente inclinato i rapporti. Pare che adesso l'assessore Milazzo sia disposto a tornare sui suoi passi con la presentazione nuovamente della delibera per essere votata in consiglia, ma a questo punto i consiglieri non ci stanno. E' notizia recente di uno scontro tra il consigliere dell'Udc, componente della commissione, Felice Dierna, e il presidente Zumo che aveva proposto di pacificare gli animi. In conferenza dei capi gruppo e al momento gli è stato risposto picche. E se da un lato c'è chi lavora per cucire lo starappo, dall'altro c'è chi vuole soddisfazione, come si diceva per i duellanti di un tempo, e dunque il presidente della commissione Favata, che in realtà è il più offeso di tutti, chiede un consiglio che ufficialmente dovrà essere convocato per votare la delibera, ma in realtà si parla anche di chiedere le dimissioni di Milazzo. Intanto il dato di fatto, e non tanto marginale, anzi tutt'altro, è che i comunicati stampa fioccano da quello del Comitato Santa Croce, che accusa di inerzia il Consiglio Comunale al Movimento 5 Stelle. La conferenza dei capi gruppo sarà di rimente per una decisione futura, e in tutto ciò l'assessore Milazzo al momento tace, e però non sappiamo ancora per quanto.